Dieci famiglie, provenienti da quattro paesi europei, più Kenya e Fiji, si preparano a fare ricorso alla Corte di Giustizia UE contro la stessa Unione, perché i cambiamenti climatici stanno sconvolgendo le loro vite e l'Unione Europea non fa abbastanza per contrastarli. Sto cercando di proteggere il futuro dei miei figli, come farebbe qualsiasi genitore, ha spiegato Giorgio Helter, agricoltore proprietario di un albergo in Val d'Aosta. I ricorrenti, con il sostegno della ONG Climate Action Network, che raccoglie 160 organizzazioni di 35 paesi, chiedono di rivedere a rialzo gli obiettivi UE di riduzione delle emissioni al 2030. L'Unione Europea sostengono i ricorrenti sulla base di quanto sancito dal diritto europeo e internazionale ha il dovere legale di non causare danni e proteggere i diritti fondamentali dei suoi cittadini. Sì, questa è un'iniziativa che la nostra associazione ha deciso di promuovere in Italia, insieme alle altre associazioni che fanno parte del CAN, il network europeo delle associazioni che si occupano di cambiamenti climatici. Noi abbiamo focalizzato quest'azione collettiva, che ha l'obiettivo di chiedere alla Corte di Giustizia Europea di mettere in campo un'azione legale nei confronti dell'Europa, perché gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra discussi a livello europeo non riescono a fronteggiare quella che è diventata una vera e propria crisi climatica e lo si fa partendo da alcune storie particolari. Noi sosteniamo una famiglia valdolstana che inevitabilmente nei prossimi anni subirà a livello economico, oltre che a livello ambientale, conseguenze evidenti per la riduzione degli acciai, per gli sconvolgimenti che ci saranno nell'ecosistema alpino e speriamo che anche questa azione legale contribuisca a sostenere la nostra azione politica nei confronti dell'Europa e nei confronti dell'Italia per fare di più rispetto a quanto fatto fino ad oggi per la lotta ai cambiamenti climatici. Perfetto. Perfetto.